ciao a tutti ecco qua siamo al campo di arlin e abbiamo già visto altre volte questo campo ma questa volta c'è anche leonardo che sta facendo il suo primo allenamento in squadra in squadra eccola ci hanno prestato la mazza e anche il casco poi li compreremo anche le scarpe non capisce ancora l'inglese ovviamente il coach l'ho avvisato però non c'è problema segue quello che fanno gli altri bambini va bene infatti nella mischia non vedeva l'ora di cominciare da ieri che il requieto non riuscivo neanche a dormire ieri sera tanto volava venire a fare questo allenamento ma quando comincio ma quando comincio ma quando comincio ma gliel'hai detto al coach ma gliel'hai detto al coach ma l'hai chiamato ma l'hai avvisato due milioni di domande come vedete i genitori in mezzo al campo si sembra questo è un allenamento a tutti insieme sembra l'altro il tuo figlio che inizia oggi l'allenamento c'è già qualcuno che l'ha divisa qualcuno che è già in casco qualcuno che è già più attrezzato ma poi ci attrezzeremo domani a comprare quello che servirà per sole non lo vedo più eccolo laggiù dove è finito leonardo è laggiù ancora l'ho ritrovato ha raggiunto il gruppo eccolo la c'erano tre caschi di tre colori diversi ovviamente ha scelto il verde non avevo alcun dubbio che avrebbe scelto il colore verde vediamo cosa fanno adesso adesso ripartiranno in quest'altro senso avanti si ricomincia a seguire la palla eccolo la vai leo vai vai guardalo guardalo è un giocatore di harley nato guarda che roba vai leo prendi la palla forza sembra nato per fare questo guardalo 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 e ovviamente si arrangia eccolo la è arrivato ebbene per adesso vi saluto ciao a tutti